Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì, c'è che fa anche? Sì, c'è che fa anche? Non mi sono capire, non mi sono capire. Non mi sono capire, non mi sono capire. Sì, c'è che fa anche? Il fatto di essere ragazza, non mi sono capire. Sì 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 Cosa? 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 Cosa… E – Bo Росですね Cosa? Cosa... Cosa… Cosa… Cosa Center… Cosa… 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 C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è? C'è un po' che c'è? C'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? Un po' cinque c'è? Dunque da un'altra cosa, non c'è grande? Non c'è più di più. Ah, c'è più di più di più? Sì, più di più di più. Dunque da una volta, non c'è più di più? No, non c'è più di più. Non c'è più di più, non c'è più di più? è più facile Dio 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 Sì, sì, sì. Tocco. Sì 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 S validated Sì Sono Sì 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 È Sì È Sì È È È Cì етров Louise Engineering È c'è l'articolo Sì, 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 sì. Non, non, non. Non c'è così, non c'è una nuova. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Go ahead, go ahead, go ahead, go go go. Come on, tu e me? Come on, shnaga. Get in the whip, get in the whip! Take me home, take me home! Get in, get in, get in, get the fuck in. Get the fuck in. Go, 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 go. I took one, I took one. You took one, I took one too. Never mind, you took that one. Fuck. . . . . . Sì Sì alla fine alla fine alla fine ... ... ... ... ... ... ... Uchino組織の名前を言った人がいたら分かったって言って教えてください そうですね 確かに とろってる人がいるってことですもんね そういうことです 分かりました 口の着が全開な人がいるらしいので まあでも いない いないんじゃないですか なかなか なかなかはいないです こっちで適当に分けちゃうけど 赤いラダオさんって方もいますか? 明日起きてくる人が分かんない 誰? なんか墓場のとこにいたときです 赤い? 赤いラダオさんっていう方が 明日起きる方 赤いラダオ それ誰? どうぞ 赤いラダオさん 許せない じゃあこっちでチーム分けさせてさん 赤いラダオさん CMARのアジトに切れていって Sì, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero.